E' un quadro dai tratti rassicuranti, quello delineato dal ministro all'interno Marco Minniti nella tradizionale conferenza stampa di Ferragosto su sicurezza e ordine pubblico. Tutti i reati sono in calo, i delitti meno 12%, gli omicidi meno 15%, meno 41% quelli riferibili alla criminalità organizzata. In diminuzione, anche se non sembra a livello percettivo, anche gli assassini di donne meno 23%, ma per Minniti questo dato non è soddisfacente perché il delitto di genere resta il più terribile e inaccettabile e bisogna fare il massimo per azzerarlo. Vedo la luce in fondo al tunnel, ha dichiarato dopo aver trattato il tema del terrorismo e dell'immigrazione. L'attenzione sul fronte al terrorismo resta alta, ma, dice il rappresentante dell'Aviminale, non c'è alcuna minaccia incombente. Nei primi mesi del 2017 sono state espulse 67 persone, l'81% in più rispetto al 2016, persone che erano ritenute pericolose per la sicurezza del nostro paese, 199 dal 2015, quando è stato varato il provvedimento. La sicurezza è garantita in modo da ritenersi adeguato grazie ad un'intelligence nazionale che lavora in sinergia tra tutte le forze, unico caso in Europa con scambio in tempo reale di informazioni e segnalazioni. Gli investigatori italiani, insomma, sono davvero i più bravi del vecchio continente. Dati rassicuranti che però non rassicurano la gente, che continua ad avere paura. La sicurezza percepita non è un dato da sottovalutare quando si tratta di ordine pubblico. Esserci, monitorare il territorio è la risposta adeguata per il cittadino. Quanto agli sbarchi, sono in diminuzione una lieve flessione di un fenomeno che è epocale. Minniti ha detto di vedere la luce in fondo al tunnel, anche in questo caso. Un tunnel lungo, ma si è detto ottimista, anche di fronte ad una maggiore consapevolezza del fenomeno e della necessità di governarlo insieme da parte dell'Europa. E con soddisfazione ha commentato il codice stilato per le navi delle organizzazioni non governative e il lavoro sinergico con le autorità libiche. Però a Kona e Bagnoli, i due hub di profughi del Veneto, continuano a sentirsi dimenticati, sia ospiti che residenti.